Ci rivedremo a Filippi, Filippi! Come ha detto che ci vedremo? A Filippi! E dov'è Filippi? Lo so, lo so! Io ne so, dov'è Filippi? Ma che ne so, figurati! Ma scusa, io non so dov'è Filippi, come faccio ad andare? Ma va al diavolo! Ma andate a fare il culo tutti quanti! Ma è possibile che ogni cosa che dico io, pa 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 pa, e vi cazzete!